Benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo LLLunedì. Letto, leggendo e leggerò il mio aggiornamento di lettura settimanale in cui vi racconto che cosa ho finito, cosa sto leggendo e cosa leggerò in futuro. Ci rincontriamo dopo tutta l'estate, cioè nel senso agosto, ma in realtà io avevo registrato l'ultimo LLLunedì molto in anticipo. Per questo motivo ci sono varie pile sul tavolo. Allora, intanto mi presento, io sono Sara Elliot e questo è un canale culturale. Benvenuti a tutte le persone che sono arrivate ad agosto e magari non hanno ben capito di che cosa parlo. Io su questo canale tratto di cultura, ma soprattutto libri e opera lirica. Le mie playlist principali sono quelle di letteratura scientifica, gli un po' di tutto su in cui vi parlo di un autore in particolare e le operazioni in cui analizzo parola per parola un'opera. Se siete interessati a questi miei video un po' più grandi in cui mi metto per bene, mi travesto e tutto quanto, trovate la playlist con il mix di tutti i video qui sopra. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere aggiornati su tutti i miei contenuti se ti piacciono questi argomenti e di lasciare un mi piace e un commento alla fine del video. Vi farò una domandina come ogni settimana. Iniziamo! Iniziare è una parola grossa. Perché? Perché vedete queste pile qui? E prima di tutto vi volevo raccontare come ho intenzione di parlarvene. Bene! Allora, intanto questa pila qui è quella di cui parliamo oggi. Dopodiché ho questa che sarebbe 7 libri in 7 giorni, che però è una cosa quasi clickbait, non è proprio 7 libri in 7 giorni, ma ne parliamo venerdì, questo venerdì. Poi ad agosto io ho girato un vlog che avrà audio pessimo, video pessimo, tutto pessimo, però vi ho parlato di questi libri qui e qualcun altro. E di questi ne parleremo venerdì prossimo, non questo quello dopo. E da ultimo ci sarà quest'altra pila, che è quella di quando sono tornata. Allora, questi libri qui, queste due pile, sono i libri di luglio. Perché? Perché l'ultimo è l'ello lunedì, in realtà l'avevo girato ai primi di luglio e a quel punto sono riuscita a riposarmi veramente e a leggere tutto quello che volevo. Quindi ho diviso le pile per parlarvene bene in letti nel mese e letti di seguito, perché poi mi sono ritrovata a leggere 7 libri in 7 giorni, ma ne parliamo venerdì. Allora, il primo che ho finito è stata la fiaba d'amore dei principi russi Pietro e Fevronia, che è bellissima, è una fiaba del 1500, ucraina, perché è della Rus di Kiev. E vi voglio raccontare di un pezzo in particolare. Allora, è una storia d'amore molto particolare, perché c'è una donna povera e un principe, c'è tutta la storia che va per enigmi. Ma la cosa bella è che questa donna è molto protagonista. Nonostante la fiaba sia del 1500, non c'è l'autore, io l'ho cercato, ma pare sia una sorta di autore sconosciuto. E vi voglio leggere un pezzetto in cui Fevronia vede un uomo che la osserva in modo turpe, e quest'uomo è anche sposato, quindi, Ella, indovinando all'istante i suoi pensieri impuri, lo svergognò dicendogli Attingi un po' d'acqua dal fiume, spuggendoti da questo lato della barca. Egli attinse, gli ordinò di berla e gli beve, lo incalzò di nuovo. Attingi l'acqua dal lato opposto di questa barca. Egli attinse, gli ordinò di bere ancora e gli beve, lo interrogò. Ha il medesimo sapore quest'acqua, ovvero una è più dolce dell'altra? L'acqua, o signora, è sempre la stessa, rispose egli. Troppo bello, troppo bello, ci sono tanti stratagemmi che mette in atto lei, tra l'altro è piccolo, però c'è tanto dentro. La scrittura è un po' strana, come avete potuto sentire, però è del 500. Poi, Ipazia, Ipazia, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Ho odiato questo libro, è passato un sacco di tempo, ma ancora ricordo l'astio e la fatica. Vi leggo adesso la mia recensione su Goodreads, ma prima di tutto volevo ringraziare La Scuola delle Donne, che è un canale YouTube che fa audiolibri, perché senza quel canale non l'avrei mai finito. Io ero intoppata intorno a pagina 150. Mamma mia, mamma mia, che pesantezza! Ora vi leggo la mia recensione. Questo libro è stata una sofferenza inutile. La narrazione è semplicemente inutile e noiosa. Mi poteva semplicemente bastare l'introduzione e l'epilogo. La morte di Pazia è troppo dettagliata. Non era necessario soffermarsi così tanto su ciò che le hanno fatto, anche se fosse l'unica parte che conosciamo bene. E, tra l'altro, nell'audiolibro non l'ha voluta leggere, perché è veramente eccessiva. Ma eccessiva è eccessiva, non parliamo di un po' di tortura. Cioè, la fanno a pezzi e descrive ogni singola cosa. Ho odiato la continua ripetizione di quanto fosse bella e sensuale, perché non è minimamente attinente, come è inutile soffermarsi così tante volte sulla sua verginità. La seconda parte del romanzo, gestita da una serie di racconti scollegati in cui Pazia presenta la sua opinione su argomenti come la luce, o il suono, o il logos, sono noiosi da impazzire e sembrano un copio e incolla del pensiero di Democrito, Sofocle, ecc. Quindi non riesco a capire se siano stati estrapolati dalle testimonianze che la riguardano, veramente, o siano solo l'invenzione degli autori. Ho trovato interessanti soli dialoghi con Sant'Agostino e Sant'Ambrogio, in cui possiamo vedere quanto effettivamente facessero schifo come uomini. Mi ha delusa immensamente, perché speravo di imparare qualcosa sui Pazia, mentre arrivando alla fine, ne ho la sensazione di aver letto soltanto una storiella nerviosa che probabilmente non ha molto di reale, perché infatti noi non sappiamo niente proprio per questa sorta di damnazio memoria che le ha fatto la Chiesa Cattolica, che poi all'epoca era solo Chiesa. Comunque, io speravo di farci una letteratura scientifica, ma se poi il mio video di letteratura scientifica spingi a comprare il suo libro, no, e in più non ho niente in mano, niente, ho un po' di filosofia che però è di Democrito e Sofocle, quindi, ma, vabbè, Osamu D'Azai l'ho squalificato, era sempre tra i 9,90€ della Filtrinelli, e anche questo l'ho letto con l'audiolibro, grazie alle parole di Silvia, altro canale YouTube qui, in una giornata l'ho sentito, perché l'ho sentito? Perché vi ne avevo parlato, odio questo font, mi fa stare male, non lo riesco a leggere, speriamo che mi rimetta a fuoco, mi rimetti a fuoco, mi fa stare male, non lo leggo bene, perché ho una lieve dislessia, e quindi ho cercato un modo per farmelo passare, anche perché è un libro piuttosto lento, piuttosto strano, c'è questo protagonista che è, parlavano di artista, ma effettivamente, io non lo definirei proprio artista, è più una persona depressa, pigra, un insieme di cose negative, ok? è il solito anti-eroe, però non lo so, mi ha lasciato abbastanza indifferente, e vi cerco la recensione, per parlarvene meglio, la storia riassunta all'osso, può essere la vita di un uomo depresso, con ansia sociale, che vorrebbe fare l'artista, la trama non mi è piaciuta affatto, e avverto della presenza di trigger warning, è scritto molto bene, ci sono delle frasi interessanti, ma niente che mi abbia particolarmente colpita, infatti gli ho dato tre stelle, perché è scritto bene, vediamo se vi ritrovo qualche pezzo per farvi capire, magari com'è la scrittura, sono convinto che la vita umana sia colma di puri, felici, sereni, esemplari di insincerità, veramente splendidi nel loro genere, di individui che si ingannano a vicenda, senza però, strano a dirsi, che essi si infliggano ferite di sorta, di individui che sembrano addirittura ignari del fatto di stare ingannandosi a vicenda, ma non provo speciale interesse per i casi di inganno reciproco, io per primo passavo il giorno intero imbrogliando gli esseri umani con le mie pagliacciate, non sono mai riuscito a infervorarmi granché per la morale sbandierata nei testi d'etica, con appellativi irreboanti come rettitudine eccetera. quindi lui soprattutto quando è piccolo fa un po' il pagliaccio, cerca di fare il buffone della classe, il buffone in generale, tutti vogliono stare con lui ma in realtà lui vuole stare da solo e usa questo modo di fare lo show per proteggersi, quindi è anche molto comprensibile, solo che a un certo punto la trama lo fa agire in un certo modo che non ho capito, mi succede spesso con gli scrittori giapponesi, quindi non lo so, mi frena un po'. Dopodiché ho finalmente letto un libro che mi è piaciuto talmente tanto che non vedo l'ora stavolta veramente di fare la letteratura scientifica e l'ho letto a voce alta il mio compagno addirittura a volte perché ci stavamo spisciando come succede sempre con i libri di Barbascura X, saggio erotico sulla fine del mondo. Abbiamo un uomo che si ritrova il suo pezzo di terra, ora metterò la clip tv di Halle. Possedeva un prezioso pezzo di terra. Veramente era un pezzettino. Si ritrova casa sua, un pezzo di giardino, nello spazio sconfinato e non ha nessuno con cui parlare se non un computer che gli stampa un saggio erotico sulla fine del mondo con migliaia e migliaia e migliaia di capitoli. Questo libro voglio troppo analizzarlo e non voglio parlarvene troppo, ma visto che mi offre là per parlarvi di un altro mio video, vi leggo un pezzettino. Siamo nella parte in cui ci racconta di quanto la plastica sia stata dannosa per il pianeta, è dannosa tutt'oggi per il pianeta, e cita Primo Levi. Io vi ho fatto proprio una letteratura scientifica sulla chimica, proprio sul libro Il Sistema Periodico, e lui cita il capitolo sul cerio. Raccontava delle sue fatiche nel sopravvivere da ebreo nei campi di concentramento nazisti, altra bella storia autodistruttiva del genere umano che approfondiremo nel capitolo 31.719 del saggio erotico. Primo Levi però aveva la fortuna di essere un chimico e i chimici servono a tutti, persino ai propri carcerieri. Non più come essere umano, ma solo come numero 174517, i nazisti lo misero a lavorare nel laboratorio di Auschwitz. Così facendo, riuscì ad avere un briciolo di libertà in più rispetto ai suoi compagni e a sottrarsi al peggiore epilogo di quei simulacri di morte e di umana invenzione avevano da offrire. Per sopravvivere ovviamente non disdegnò di rubare. Rubare cosa? Di tutto, tranne il pane dei suoi compagni. Primo Levi racconta che alcune delle cose più spesso rubate erano alcol e benzina, sostanze per cui l'offerta non mancava, sebbene il rischio del furto fosse elevatissimo. Per di più, per trasportare liquidi, servono recipienti, che spesso erano di pesantissimo vetro e talmente fragili che sarebbe bastato un colpo malassestato a fare un casino boy attirando in modo allarmante l'attenzione sul furto. Ma ecco quale commento ci lascia tra le sue righe. È il grande problema dell'imballaggio, che ogni chimico esperto conosce. Lo conosceva bene il Padre Eterno, che lo ha risolto brillantemente da par suo con le membrane cellulare, il guscio delle uova, la buccia multipla degli aranci e la nostra pelle, perché liquidi infine siamo anche noi. Ora, a quel tempo non esisteva il polietilene, che mi avrebbe fatto comodo perché è flessibile, leggero e splendidamente impermeabile, ma è anche un po' troppo incorruttibile. E non per niente il Padre Eterno medesimo, che pure è maestro di polimerizzazioni, si è astenuto dal brevettarlo. A lui le cose incorruttibili non piacciono. Questo libro è semplicemente fantastico. Ora, vi ho letto una delle parti meno simpatiche, perché così vi andate a vedere il mio video sulla letteratura certifica, sulla V, ma più avanti cercherò di rendere giustizia a quanto mi abbia fatto spisciare dalle risate e quanto io lo abbia adorato. Vediamo se ho scritto qualche altra cosa su Goodreads. Perdonate se mi sto sciogliendo, ma il caldo è terribile, terribile. Oh mio Dio. È uno dei pochi libri a cui ho dato 5 stelle quest'anno, tra l'altro. Una delle letture migliori dell'anno, Barbascura è riuscito a scrivere un saggio descrivendo come ci stiamo autodistruggendo, facendo ridere. Non ho idea di quale magia abbia dentro di sé, ma gli auguro una vita infinita per deliziarci con altri mille libri. E ora veniamo a due libri che ho comprato a Venezia alla Libreria Acqua Alta, di cui vi ho parlato anche nel mio vlog che ho fatto a Venezia, che cioè non è niente di che perché semplicemente sono io che parlo, però vi ho raccontato la mia esperienza di un paio di giorni a Venezia. Il Vice dell'Arte di Alan Bennett, devo dire che forse è uno dei suoi che mi è piaciuto di meno. Questo è una sceneggiatura teatrale in cui i protagonisti sono due persone realmente esistite, uno era un professore universitario e l'altro era un compositore musicale. Due persone dalla dubbiamo la realtà con delle idee un po' strane, ma quello che mi è piaciuto è la prefazione, paradossalmente. Perché? Perché mentre Alan Bennett scriveva questo copione, aveva anche un revisore di bozza che spesso gli scriveva ma questo è necessario, ma non è di troppo, ma puoi tagliare, ma che noia! E lui prendeva quei commenti lì e li inseriva all'interno della trama, in cui prendeva un qualsiasi attore e glielo faceva dire. Questo mi ha fatto troppo ridere perché è come io scrivo le mie sceneggiature dei video più grandi, in cui prendo dei pensieri che mi vengono, tipo ah ma che noia! E lo faccio dire alla truzza, ah ma non stai dicendo le cose in modo preciso e lo faccio dire alla professoressa. Tutti i pensieri prevalentemente negativi che mi vengono in testa mentre sto scrivendo la sceneggiatura vengono messi in bocca ai miei due personaggi. Quindi è stato molto interessante vedere come il mio processo creativo si riversasse anche nel suo e vi leggo giusto una battuta sullo stile. Lo stile è una somma di imperfezioni, c'è tutto quello che uno non riesce a fare oltre a quello che gli riesce. È una visione anche molto interessante perché effettivamente, visto che lo stile è personale, si può basare anche sui limiti del singolo scrittore-autore che sta mettendo sull'opera. E mi ha fatto riflettere un sacco, perché spesso magari lo stile si riflette anche in alcuni difetti, come ripetere sempre la stessa parola o usare un certo schema per la punteggiatura che magari diventa ripetitivo e quello è un limite. Mi è piaciocchiato, però non posso dire che mi sia proprio piaciuto. Infatti, nella recensione Goodreads ho detto Per ora è il primo libro di Burnett che non posso dire mi sia piaciuto. È un testo teatrale raccontato un po' con una sorta di doppio metateatro. Siamo in un teatro in cui si prova uno spettacolo dedicato a due artisti inglesi molto importanti. Un poeta, Oden, penso si pronunci. Oden è scritto. E un compositore, Britten, credo, Brighton, Britten. Peccato però che si concentri troppo su loro come persone, non insegni molto. Leggendo l'introduzione si riesce a capire meglio l'intento, ma la doppia storia è dispersiva e fa perdere tempo. Gli attori in scena sono troppi e proprio quando lo spettacolo che stanno provando diventa interessante di solito si bloccano e discutono in modo insensato. Sarà anche realistico, ma l'effetto è fastidioso, snervante e fa perdere interesse. Concludo con una battuta che però mi è piaciuta molto di Oden ed è quella sullo stile che vi ho appena letto. Probabilmente però potrei apprezzarlo vedendolo a teatro perché magari uno non deve stare troppo lì a rovellarsi su oddio, chi è? Questo è un personaggio, questo invece è un attore, questo è troppa dualità, magari visto effettivamente fa un altro effetto. Ma adesso veniamo a un libro che io speravo fosse bello ma che devo dire proprio non mi è piaciuto ed è Il castello dei destini incrociati di Calvino. Direte, ma sei pazza che dici che non ti piace Calvino? No, allora, Calvino mi piace in generale. Infatti qui c'è un po' di Calvino in cui vi ho parlato di praticamente tutte le letture che ho fatto, anche quelle che non sono riuscita a concludere, come Le città invisibili, perché quello mi aveva annoiata. Lo so che sono una bestia ignorante, me lo dice anche la professoressa in quel video. Di che parla questo libro? Questo libro è un insieme di racconti di persone che si trovano in una locanda e usano le carte di due mazzi di tarocchi per raccontare le loro storie. E voi direte, che figata! Sì, peccato che si senta un fondo di fatica immensa. Cioè non sono delle letture facili e direte, vabbè, Calvino non è facile, devo provare a spiegarmi bene. Si sente la fatica dello scrittore. Calvino scriveva dei libri meravigliosi perché erano perfetti e non ti sembrava che avessi faticato a farli. È come quando vedi qualcuno che cucina un piatto molto complicato e ti sembra che stia facendo, non lo so, una frettata. Ottimo lavoro, Kronk! Oh, è facilissimo, ti do la ricetta se vuoi. Qui invece io a un certo punto percepevo proprio la noia, il fastidio. Anche questo ho sentito l'audiolibro che ho trovato su Andrea Arcoraci, sempre su YouTube. E poi alla fine di tutto mi sono andata a leggere la prefazione. E avevo ragione. Qui dice, se mi decido a pubblicare la taverna dei distrini incrociati è soprattutto per liberarmene. Ancora adesso, col libro in bozze, continuo a rimetterci le mani, a smontarlo, a riscriverlo. Solo quando il volume sarà stampato ne resterò fuori una volta per tutte, spero. Voglio ancora informare che per un certo tempo nelle mie intenzioni questo volume avrebbe dovuto contenere non due, ma tre testi. Dovevo cercare un terzo mazzo di tarocchi abbastanza diverso dagli altri due? A un certo momento sopravvenne in me un senso di fastidio per la prolungata frequentazione di questo repertorio iconografico che obbligava il mio discorso a svolgersi entro certi binari. E si sente il fastidio? È inutile a diste. Io speravo che questo libro mi sarebbe piaciuto così potevo anche magari regalarlo ad Arianna perché cavolo ci sono i tarocchi credo sia anche un mazzo molto famoso perché il primo si chiama Bembo è il mazzo di Bembo e mi sa che l'ho addirittura visto a lei e gli altri sono di Marsiglia se non sbaglio non mi intendo di queste cose quindi credo che potrebbe sbagliare e invece no è faticoso, fastidioso si sentiva proprio che non aveva voglia di farlo e lui racconta proprio il suo processo creativo in cui gli è venuta questa idea ha detto no che figo, no non vedo l'ora, non vedo l'ora quando ci si è messo a lavorarlo è diventata una costrizione è diventato un insieme di fastidi e non voleva più leggerlo comunque, oggi l'Ella e l'Uroredi in realtà è una sorta di mezzo wrap up perché non ho intenzione di raccontarvi che cosa sto leggendo in questo momento perché ne parliamo la prossima settimana questo venerdì come vi dicevo leggiamo leggiamo parliamo di questi la domandina che sarebbe in questa pila abbiamo un sacco di cose diverse perché abbiamo un racconto storico una biografia un romanzo diciamo quasi novella un saggio su la fine del mondo ossia sul riscaldamento climatico un copione teatrale una raccolta di racconti tra questi generi quale vi piace di più? e le opere teatrali le andate a guardare a teatro? anche se è difficile trovare varietà mi sembra che usino tutti un po' alle stesse opere soprattutto Shakespeare che amo tantissimo però le ho viste e quindi io vorrei tanto trovare questi autori anche del novecento per scoprire un po' di più questa è la domanda quale di questi generi vi piace di più? e per scoprire se effettivamente io ho rispettato la mia TBR dovete aspettare un paio di settimane e arrivare alla fine del vlog detto ciò non mi rimane che ricordarvi di iscrivervi al canale per vedere queste altre pile attivare la campanella lasciare un mi piace non vedo l'ora di leggere i vostri commenti come siete stati meravigliosi nell'ultimo video e ora veramente non mi rimane altro che augurarvi buona lettura buona lettura